ciao a tutti nell'esercizio di oggi metteremo in pratica quello che abbiamo imparato sullo spazio 3d di after effects benissimo vediamo subito quello che dobbiamo realizzare bene come potete vedere si tratta di una scena molto simile a quella che abbiamo fatto durante le lezioni precedenti soltanto che in questo caso abbiamo a che fare con una scena notturna bene torniamo in after effects come vedete i disegni li ho già importati e se anche voi volete fare l'esercizio insieme con me potete scaricarvi il materiale dal link che trovate sotto il video e in questo caso bisogna stare attenti che i disegni vanno importati tutti quanti sotto forma di footage ad esclusione di due che vanno importati come composizione questi due disegni sono l'albero di natale e le luminarie che appunto dicevo vanno importati sotto forma di composition inoltre durante questo esercizio useremo anche la mia palette looping per cui se non l'avete ancora scaricata potete scaricarla dal link che trovate nella pagina di questo esercizio e magari date anche un'occhiata al tutorial che le ho dedicato in modo che possiate capire bene il suo funzionamento benissimo incominciamo subito la composizione nella quale lavoreremo l'ho già creata e si tratta di questa qui esercizio 13 finale e le impostazioni che gli ho dato sono queste il formato che usiamo è sempre hdtv 1080 25 e la durata della composizione è di 20 secondi benissimo diamo l'ok allora incominciamo ad aggiungere il primo livello che è il prato con il lago quindi prendo prato e lago lo aggiungo nella timeline per attivare le funzioni 3d devo accendere questo pulsante qui col simbolo del cubetto bene ora ruotiamo orizzontalmente il piano di 90 gradi quindi mettiamo in evidenza la rotazione sulla x rotation ruotiamo verso di noi il prato di 90 gradi quindi il valore è meno 90 gradi ora con la posizione y abbassiamo il prato in basso io direi più o meno qui e spostiamo anche il prato un poco più avanti con la posizione z all'incirca qui ora aggiungiamo in mezzo al lago l'albero di natale solo che prima di aggiungerlo dobbiamo animare al suo interno le luci intermittenti quindi per aprire l'albero di natale a timeline ci facciamo doppio clic sopra e ora dobbiamo animare i due livelli luci 1 e luci 2 in modo che mentre luci 1 è acceso luci 2 è spento e viceversa e questa animazione deve continuare intermittenza per tutta quanta la durata della composizione ma prima di procedere con questa animazione dobbiamo sincerarci che la durata di questa composizione sia 20 secondi quindi aprite un attimo i settings della composizione e verificate che la durata sia appunto di 20 secondi se non lo è la correggete benissimo diamo l'ok ora ci concentriamo sull'opacità dei due livelli luci 1 e luci 2 quindi le selezioniamo mettiamo in evidenza l'opacità e all'inizio facciamo sì che luci 1 sia acceso e luci 2 sia spento quindi luci 1 lo lasciamo al 100% e luci 2 la azzeriamo benissimo ora accendiamo i due orologi in modo da creare il primo keyframe avanziamo circa mezzo secondo nella timeline e riaccendiamo le luci 2 e nello stesso tempo spegniamo le luci 1 in modo che mentre si spegne il primo gruppo di luci si accende il secondo benissimo ora vogliamo che queste due animazioni continuino così per tutta quanto la durata della composizione quindi in questo caso possiamo appunto usare la palette looping e la useremo in modalità ping pong in modo appunto da rimbalzare avanti indietro tra il primo e l'ultimo keyframe quindi selezioniamo tutti quanti keyframe impostiamo come loop out anziché cycle ping pong e clicchiamo il bottone applica se proviamo a fare una preview di qualche secondo vedete che le luci continuano accendersi e spegnersi sempre con lo stesso ritmo ma mentre le luci 1 sono accese le luci 2 sono spente e viceversa bene ora possiamo tornare nella composizione esercizio 13 finale e aggiungere l'albero di natale quindi lo prendiamo dalla finestra progetto lo aggiungiamo nella timeline accendiamo il pulsante del 3d e da adesso in poi per piazzare gli oggetti correttamente all'interno della scena useremo due punti di vista quindi subito attiviamo i due punti di vista da questo menu qua e nel menu di sinistra ci teniamo il punto di vista front subito vediamo che dobbiamo spostare l'albero di natale un poco più in alto quindi mettiamo in evidenza la position e con la posizione y lo spostiamo un poco più in alto all'incirca qui ora dobbiamo rimpicciolirlo un poco quindi piazziamo l'anchor point qui in basso ci facciamo aiutare dalla palette move anchor point e con la proprietà scala lo riduciamo un po più o meno questa grandezza qui e ora per vedere a che distanza lo spostiamo all'interno del lago ci facciamo aiutare dal punto di vista dall'alto cioè il punto di vista top quindi dal menu dei punti di vista scelgo top e l'albero di natale qua io ho idea di spostarlo un poco più indietro qua in mezzo al lago quindi riattivo di nuovo la position e con la posizione z lo sposto più o meno qua bene ora sotto l'albero piazziamo i regali quindi andiamo a prendere il livello dei regali eccolo qui e lo aggiungiamo nella timeline accendiamo subito il pulsante del 3d nel monitor di sinistra di nuovo riattiviamo il punto di vista front abbassiamo i regali più in basso in modo che appoggino sul lago all'incirca qui l'anchor point come al solito lo piazziamo alla base in modo da poter scalare correttamente gli oggetti quindi riattivo la scala educo i regali più o meno a questa grandezza qua e li spostiamo un poco più verso di noi quindi di nuovo punto di vista top e con la posizione z li portiamo un poco più avanti rispetto all'albero io direi all'incirca qui bene ora a fianco ai regali piazziamo babbo natale quindi prendiamo babbo natale e lo aggiungiamo nella timeline e come vedete babbo natale non è un disegno statico ma è un disegno animato infatti è un video che dura soltanto circa due secondi e mezzo quindi dobbiamo replicare questo video per tutta quanta la durata della composizione e per ottenere questo dobbiamo prima aggiungere a babbo natale una proprietà che gestisce il suo tempo e poi mandare in loop questa proprietà quindi selezioniamo babbo natale e questa proprietà la troviamo nel menu layer time time remapping quindi la aggiungiamo eccola qui e come vedete qui a destra nella timeline ha già due keyframe attivi uno all'inizio e uno alla fine noi non dobbiamo fare altro che questi due keyframe si ripetano in continuazione per tutta quanta la durata della composizione e per farlo appunto useremo la palette looping ma prima di attivare il loop facciamo sì che il livello babbo natale duri 20 secondi quindi prendiamo il suo margine destro e lo trimiamo fino in fondo alla timeline e ora selezioniamo la proprietà time remapping e usiamo il primo tipo di looping il tipo cycle in modo che i due keyframe vengano sempre ripetuti dall'inizio alla fine quindi clicchiamo sul pulsante applica quindi babbo natale agita il braccio sempre allo stesso modo bene e ora andiamo a piazzare babbo natale all'interno della scena quindi per prima cosa attiviamo il pulsante del 3d poi attiviamo il punto di vista front per fare l'allineamento verticale quindi con la posizione lo abbassiamo un po più in basso mettiamo l'anchor point alla base e con la scala lo riduciamo a questa grandezza e lo spostiamo un poco più avanti e a sinistra quindi punto di vista dall'alto top di nuovo con la posizione z lo spostiamo all'incirca qui e un poco più a sinistra dei regali quindi più o meno qui ora al fianco di babbo natale qui a sinistra aggiungiamo la renna quindi prendiamo renna la mettiamo nella timeline e anche questo disegno come babbo natale è animato e dobbiamo far sì che l'animazione si ripeta per tutta quanta la durata quindi ripetiamo i passaggi selezioniamo renna andiamo nel menu layer time time remapping a questo punto abbiamo i due keyframe che giustiscono il tempo di questo livello estendiamo il livello fino alla fine della timeline e ora per mandare in loop questa animazione selezioniamo la proprietà time remapping e applichiamo di nuovo il looping tipo cycle bene ora attiviamo il pulsante del 3d spostiamo la renna più in basso e quindi usiamo il punto di vista front l'abbassiamo appunto fin qui spostiamo l'anchor point al centro in basso e riduciamo la scala più o meno così di nuovo attiviamo la vista dall'alto con la posizione z la spostiamo un poco più avanti di babbo natale e la mettiamo più a sinistra io direi all'incirca qui bene adesso i due elementi sulla destra il pupazzo di neve e il cartello con scritto buon natale incominciamo da pupazzo di neve questo elemento non è animato quindi andiamo direttamente ad accendere il pulsante del 3d attiviamo il punto di vista front lo abbassiamo in modo che appoggi sul lago spostiamo l'anchor point in basso e lo riduciamo all'incirca così attiviamo il punto di vista dall'alto e lo spostiamo più avanti e un poco più a destra qui benissimo ora il cartello di buon natale quindi lo prendo lo aggiungo nella timeline accendo di nuovo il cubetto uso il punto di vista frontale lo abbasso in modo che appoggia sul lago sposto l'anchor point in basso e lo riduco all'incirca così lo spostiamo un poco più in avanti un po più a destra e in questo caso magari lo ruotiamo anche un po verticalmente verso sinistra quindi attivo la rotazione e con la y rotation lo ruoto circa di una ventina di gradi così e magari lo sposto ancora un pochino verso destra più o meno così bene e ora aggiungiamo i due pattinatori incominciamo dal pattinatore lo prendo lo aggiungo nella timeline e lo metto qui sopra il prato come vedete il pattinatore è un video come babbo natale quindi va mandato in loop quindi lo seleziono vado nel menu layer time time remapping subito lo allunghiamo in modo che duri come tutta la composizione selezioniamo time remapping e attiviamo il loop benissimo accendo il pulsante del 3d metto in evidenza il punto di vista front lo sposto in questo caso leggermente verso l'alto metto l'anchor point alla base e lo riduco a questa altezza qui benissimo torniamo nel punto di vista top e a questo pattinatore faremo fare un percorso a 8 intorno all'albero di natale lo facciamo partire più o meno in questa zona qui quindi vado al tempo 0 e con la posizione z lo sposto più indietro io direi fin qui e accendiamo l'orologio di position avanziamo nella timeline 2 o 3 secondi più o meno qui e ora spostiamo il pattinatore un po' più avanti davanti all'albero io direi circa qui e prima di continuare con le altre posizioni cominciamo a curvare il percorso in modo che dal primo punto al secondo punto faccia una curva verso destra quindi prendo la prima maniglia del tracciato di movimento e la tiro di qua a destra più o meno così ora prendo la seconda maniglia e la tiro a destra anche lei più o meno così e vedete che ho la prima curva bene ora avanziamo altri 2 o 3 secondi nella timeline quindi più o meno fino qui e a questo punto spostiamo il pattinatore dietro l'albero più o meno in questa zona qui e ora agiamo sulle maniglie in modo che il percorso sia curvilineo a sinistra dell'albero quindi più o meno fino qui e se per caso come me non vedete la maniglia del terzo punto prendete lo strumento pennino cliccate sul terzo punto e fate comparire la maniglia in questo caso la tiriamo ancora verso sinistra ed ecco che abbiamo completato la seconda curva bene andiamo avanti altri 2 o 3 secondi nella timeline e adesso torniamo indietro spostiamo il pattinatore ancora davanti all'albero di nuovo con lo strumento pennino estraiamo la maniglia in modo da poter gestire la curva come vogliamo noi avanziamo altri 2 o 3 secondi e adesso facciamo tornare il pattinatore nello stesso identico punto di partenza quindi possiamo selezionare il primo keyframe qui nella timeline lo copiamo quindi CTRL-C e lo incogliamo qui dove c'è il cursore quindi CTRL-V e il pattinatore come vedete è tornato nello stesso identico punto di partenza di nuovo estraggo la maniglia in modo che modifico la curva del tracciato di movimento e quindi come vedete il pattinatore fa un giro completo a forma di 8 davanti all'albero benissimo per fare in modo che la velocità tra il primo e l'ultimo punto sia costante a questo punto selezioniamo tutti quanti i keyframe e cliccando col tasto destro su uno a caso dei keyframe attiviamo la voce ROW ACROSS TIME in modo appunto che la velocità tra il primo e l'ultimo keyframe sia costante ora per far sì che una volta concluso il primo giro il pattinatore ripeta ancora lo stesso giro basta che noi selezioniamo la proprietà POSITION e attiviamo il LOOP CYCLE quindi clicco sul bottone APPLICA e come vedete una volta terminata l'animazione il pattinatore ricomincia da capo dal punto di partenza bene però come vedete la direzione del pattinatore non è corretta non è orientato lungo le curve del tracciato e per orientarlo attiviamo la funzione AUTO-ORIENT nello stesso modo in cui si applica a un livello 2D quindi seleziono il pattinatore vado nel menu LAYER TRANSFORM AUTO-ORIENT e quindi attiviamo la funzione ORIENT ALONG PAT benissimo diamo l'OK ora per capire bene se il pattinatore è messo in direzione giusta lungo il tracciato magari usiamo il punto di vista CUSTOM quindi andiamo nel menu dei punti di vista attiviamo CUSTOM VIEW per zoomare nell'inquadratura usiamo lo strumento CAMERA questo qui e con il tasto destro clicchiamo e trasciniamo nel monitor e poi con il tasto centrale esposto in su e in giù l'inquadratura come vedete da questo punto di vista si capisce che il pattinatore è perpendicolare al tracciato quindi dobbiamo fare una correzione di 90 gradi sull'asse Y allora seleziono il pattinatore evidenzio la rotazione e correggo la Y ROTATION e in questo caso particolare è di meno 90 gradi a questo punto come vedete il pattinatore è sempre in direzione corretta lungo il tracciato benissimo adesso aggiungiamo anche la pattinatrice quindi la prendo nella finestra PROGETTO la aggiungo qui accanto al pattinatore anche lei è un video e quindi andiamo in LAYER TIME TIME REMAPPING allunghiamo il livello fino a 20 secondi selezioniamo TIME REMAPPING e attiviamo il LOOP a questo punto mettiamo il punto di vista FRONT accendiamo il pulsante del 3D e correggiamo la sua posizione incominciamo a spostarla verso l'alto l'UNCOR POINT lo mettiamo alla base riscaliamo anche lei più o meno quanto il pattinatore quindi circa 12% ora torniamo al punto di vista dall'alto TOP e anche lei facciamo fare un percorso a 8 solo che questa volta la facciamo partire da dietro l'albero e girare al contrario quindi andiamo al tempo 0 direi che come posizione di partenza va già bene lì dov'è quindi accendiamo subito l'orologio di position anche nel suo caso avanziamo 2 o 3 secondi e la spostiamo avanti io direi più o meno qui facciamo subito in modo che faccia una curva verso sinistra quindi tiriamo le due maniglie a sinistra in questo modo qui andiamo avanti altri 2 o 3 secondi spostiamo la pattinatrice ancora più indietro se non vedete la maniglia di questo terzo punto prendete il pennino e quindi la tirate verso destra in modo che faccia una ampia curva qui verso destra poi avanziamo ancora 2 o 3 secondi nella timeline e riportiamo la pattinatrice verso il centro qui di nuovo estrago la maniglia per correggere la curva e ora avanziamo ancora nella timeline e adesso per far sì che torni al punto di partenza copiamo e incolliamo il primo keyframe quindi seleziono il primo keyframe CTRL-C lo copio e CTRL-V lo incollo qui dove c'è il cursore bene, ora facciamo in modo che la velocità tra il primo e l'ultimo keyframe sia costante quindi seleziono tutti i keyframe e poi tasto destro su uno qualsiasi e attivo ROW ACROSS TIME e adesso facciamo in modo che la pattinatrice ripeta ancora lo stesso percorso quindi seleziono POSITION e attivo il LOOP CYCLE l'ultima cosa che ci rimane è di attivare l'autoorientamento di questo livello quindi vado nel menu Layer Transform Auto Orient Orient Along Path e do l'OK benissimo a questo punto come vedete la pattinatrice è perpendicolare al percorso e quindi anche per lei bisogna correggere la rotazione verticale quindi metto in evidenza la rotazione e correggo di meno 90 gradi la Y ROTATION benissimo proviamo a fare una preview di qualche secondo per vedere se i pattinatori hanno una velocità che vada bene direi che ci siamo bene adesso aggiungiamo un paio di rocce sul lago quindi prendiamo il livello roccia lo aggiungiamo alla timeline accendiamo il pulsante del 3D mettiamo subito l'anchor point alla base usiamo come al solito il punto di vista front in modo da poter allineare bene il livello con il lago ora lo riscaliamo più o meno grande così e adesso guardando la scena dall'alto lo andiamo a piazzare nella parte bassa del lago magari prendo lo strumento camera così sposto l'inquadratura un poco più in alto bene ora sposto la roccia più indietro io direi più o meno a questa altezza e anche un poco più a sinistra magari qui in questo caso direi anche che possiamo affondare un poco di più la roccia nell'acqua quindi con la posizione Y la basso un poco di più più o meno qui benissimo adesso duplichiamo la roccia e ne mettiamo un'altra copia qui al centro del lago sulla destra quindi seleziono la roccia CTRL D e sposto la roccia un poco più a destra e un poco più in avanti e magari ancora un poco più sulla destra benissimo anche in questo caso direi di affondarla un poco di più in mezzo al lago circa così ora aggiungiamo la casa in fondo al lago quindi prendo disegno casa l'aggiungo accendo il pulsante del 3D attivo il punto di vista frontale abbassiamo la casa al livello del lago bene in questo caso direi che la dimensione della casa va bene così com'è quindi andiamo nel punto di vista top e adesso piazzeremo la casa in fondo al lago spostiamoci un poco più in basso e per la precisione cerchiamo di metterla sopra questa macchia qui quindi con la posizione Z la sposto questa distanza qui e magari anche un poco più sulla destra quindi circa qui benissimo adesso intorno al lago aggiungiamo 4 lampioni quindi prendiamo il lampione lo aggiungiamo nella timeline accendiamo il pulsante del 3D andiamo come al solito in front abbassiamo il lampione in modo che appoggi sul prato mettiamo l'anchor point alla base e lo riduciamo un poco all'incirca così ora andiamo a piazzare il lampione all'incirca in questa zona a sinistra della casa quindi lo spostiamo più indietro circa questa altezza qui e un poco più a sinistra io direi circa qua adesso facciamo altre tre copie del lampione e le distribuiamo negli altri angoli del lago benissimo quindi lo seleziono lo duplico questo lo spostiamo a destra della casa in questa zona qui duplichiamo ancora il successivo lo andiamo a mettere nell'angolo qui del lago quindi lo spostiamo indietro e poi un poco a sinistra qui poi duplichiamo un'ultima volta e lo spostiamo a sinistra in questa zona qui bene adesso distribuiamo intorno alla scena le colline con gli alberi incominciamo dalla collina sinistra la aggiungiamo accendiamo il pulsante del 3d mettiamo il punto di vista front la abbassiamo un poco l'anchor point alla base e anche in questo caso la possiamo ridurre un po' io la farei grande all'incirca così quindi torniamo in top e andiamo a mettere qui quindi la sposto prima in avanti all'incirca qui e adesso a sinistra in modo che gli alberi comincino proprio a fianco alla casa circa qui bene adesso per inserire le colline di destra qui a fianco alla casa possiamo duplicare la collina di sinistra e poi sostituirle con quella di destra in modo che mantiene la stessa dimensione di quella di sinistra quindi seleziono colline di sinistra la duplico ctrl d il duplicato lo sostituisco con colline di destra quindi prendo colline di destra tengo premuto il tasto alt e le rilascio sopra colline di sinistra benissimo le andiamo a mettere qua bene adesso abbiamo bisogno di altre due copie di colline una qui a sinistra a metà del lago e un'altra a destra qui quindi incominciamo a duplicare colline di sinistra la seleziono ctrl d il duplicato lo spostiamo più indietro più o meno qui e lo spostiamo anche un poco più a sinistra fuori dal lago all'incirca qui ora duplico colline di destra quindi lo seleziono ctrl d e il duplicato lo spostiamo anch'esso indietro e un poco più a destra fuori dal lago direi qua perfetto ora dietro la casa mettiamo livello colline sfondo quindi prendo colline sfondo lo aggiungo accendo pulsante del 3d mettiamo subito l'anchor point in basso al centro e osservando la scena frontalmente abbassiamo queste colline fino a terra qui bene in questo caso direi di ingrandirle un poco e circa 120% direi che è la grandezza adatta ora guardando la scena dall'alto e zoomando un poco più indietro andiamo a piazzare queste colline qua in fondo dietro la casa quindi con la posizione le spostiamo in avanti e mi fermerei più o meno a questa distanza qua bene adesso l'ultimo livello di colline in primo piano davanti al lago che sono le colline centrali quindi le prendiamo le aggiungiamo nella timeline accendiamo il pulsante del 3D le abbassiamo al livello del lago e le piazziamo proprio qui all'inizio del lago e quindi le porto fino qua anche in questo caso però direi di ingrandirle un po' quindi prima mettiamo l'anchor point alla base e poi con la scala le ingrandirei più o meno come quelle sullo sfondo quindi anche in questo caso circa un 120% magari le spostiamo anche leggermente sulla destra in modo che lo spazio fra questi due pini sia centrato con i disegni al centro del lago quindi lo sposterei più o meno in questa zona qui adesso il livello che sta sullo sfondo quindi lo prendo lo aggiungo nella timeline in questo caso lo sfondo anziché lasciarlo 2D come avevamo visto nella scena che abbiamo costruito nelle lezioni precedenti lo facciamo diventare un livello 3D perché poi più tardi dovrà essere illuminato dalle luci quindi accendo il pulsante del 3D e lo spostiamo abbondantemente in avanti più o meno così e adesso ovviamente lo ingrandiamo in modo che riempi l'inquadratura e quindi così benissimo ora manca solo un elemento che sono le luminarie al centro della scena le luminarie però sono una composizione quindi prima le apriamo doppio clic e dobbiamo farci un'animazione simile a quella delle luci dell'albeo di Natale quindi seleziono i due livelli di luce attivo l'opacità e al tempo 0 lasciamo le luci 1 accese e spegniamo le luci 2 accendiamo i due orologi avanziamo un po' nella timeline facciamo una ventina di frame e spegniamo le luci 1 e accendiamo le luci 2 questa volta magari ammorbidiamo anche un po' i 4 keyframe quindi li selezioniamo e con la palette controllo easy easy gli assegno un valore abbastanza morbido intorno ai 70 80 a questo punto bisogna far sì che questa animazione si ripeta in continuazione e quindi applichiamo la palette looping in questo caso impostata su ping pong benissimo applichiamo proviamo a fare una preview per vedere se la velocità di animazione ci va bene perfetto torniamo nella composizione finale e adesso aggiungiamo luminarie alla scena le mettiamo qui accendiamo il pulsante del 3d le spostiamo appena dietro i due livelli delle colline centrali quindi con la posizione z le sposto leggermente appena prima delle due colline centrali le abbasso un poco di più all'incirca qui magari mi faccio aiutare dal punto di vista frontale bene adesso le riduciamo in modo che l'inizio e la fine di queste luminari vengano nascoste dai pini delle colline centrali quindi più o meno così e le sposto anche un poco più a destra in modo che le luminarie a sinistra siano nascoste da questo pino qui e sulla destra siano nascoste da quest'altro pino qui bene magari le abbasso ancora un poco di più più o meno così adesso ho bisogno di un'altra coppia di luminarie davanti alla casa quindi le duplico ctrl d rimetto un attimo il punto di vista top e le sposto qua dietro davanti alla casa e contemporaneamente dietro i due livelli di colline quindi la spostiamo all'incirca qui e in questo caso le dobbiamo anche rimpicciolire un po' di più all'incirca così benissimo diamo un'occhiata alla scena dal punto di vista custom per vedere se tutti i livelli sono stati disposti correttamente benissimo direi che la scena è perfetta ora aggiungiamo una camera con la quale faremo un carrello in avvicinamento quindi andiamo in layer new camera in questo caso usiamo una camera a due nodi in modo da poter orientare facilmente la direzione della camera in alto o in basso come obiettivo usiamo un obiettivo abbastanza largo e in questo caso direi che possiamo usare un 24 millimetri e già che ci siamo attiviamo il bottone enable depth of fill quello che gestisce la profondità di campo e la messa a fuoco benissimo diamolo ok mettiamoci con il punto di vista top e innanzitutto come vedete prima di cominciare a posizionare la camera notate che il livello sullo sfondo appare più piccolo di come appariva prima e questo è dovuto al fatto che l'obiettivo è particolarmente largo e quindi dobbiamo allargare ancora un po' di più la dimensione dello sfondo quindi vengo nella timeline e ingrandisco lo sfondo in modo che riempia di nuovo l'inquadratura così è più che sufficiente bene adesso prendiamo il cursore andiamo al tempo zero e spostiamo la camera quindi mettiamo in evidenza le proprietà di posizione e punto di interesse e in questo caso ci avviciniamo un poco di più con la camera più o meno a questa distanza qui adesso facciamo in modo che la camera abbia al centro dell'inquadratura questo gruppo qui con l'albero di Natale quindi dobbiamo spostare il punto di interesse al centro di questo gruppo di oggetti direi che il punto di vista che ci aiuta meglio in questo caso è il punto di vista da sinistra quindi andiamo su left come vedete il punto di interesse si trova qui e noi dobbiamo abbassarlo più o meno in questa zona qui quindi prendo il parametro verticale del punto di interesse l'abbasso un poco più o meno qui e lo porto anche un poco più indietro qui sull'albero quindi lo sposto con il punto di interesse z all'incirca qui benissimo ora come vedete la camera è un po' troppo in alto direi di abbassarla un poco quindi con la sua posizione y l'abbasserei a questa altezza e adesso possiamo accendere gli orologi di position e punto di interesse per fissare la posizione di partenza ora avanziamo nella timeline fino quasi alla fine della composizione io direi 18 secondi e adesso portiamo la camera avanti la possiamo avvicinare più o meno fino qui l'abbassiamo un poco di più fino qui e adesso come vedete l'inquadratura è tutta sbilanciata verso l'alto quindi correggo la posizione del punto di interesse verso il basso all'incirca così direi che con la camera possiamo avvicinarci ancora un po' quindi con la posizione z mi avvicino ancora un poco direi che così ci siamo benissimo prima di fare la preview direi di aggiustare anche la messa a fuoco e profondità di campo quindi apriamo le proprietà di camera options e facciamo in modo che sia sempre a fuoco il gruppo intorno all'albero di Natale quindi prendo il piano della messa a fuoco che è la focus distance e lo sposto là dove c'è l'albero quindi in questo caso devo spostarlo un poco più indietro fino qui vedete che in questo momento il piano della messa a fuoco si trova in corrispondenza del gruppo dei disegni al centro del lago benissimo adesso accendiamo l'orologio di focus distance ora ci allineiamo con i keyframe del punto di arrivo quindi go do keyframe time e in questo momento voglio che sia ancora a fuoco il gruppo dell'albero di Natale quindi di nuovo sposto la focus distance indietro e la riporto di nuovo qui sul gruppo dell'albero di Natale benissimo adesso per far sì che tutti gli oggetti sullo sfondo vadano fuori fuoco non dobbiamo fare altro che aumentare l'apertura della camera al momento come vedete impostata a 12 l'aumento un po' finché non vedo che lo sfondo raggiunge una sfocatura adatta io direi che un valore tra i 30 e i 40 possa andare bene proviamo a fare una preview benissimo direi che ci siamo abbiamo soltanto un problema con i due pattinatori che come vedete passano attraverso il cartello di Buon Natale quindi dobbiamo correggere il loro tracciato di movimento qui sulla destra quindi chiudiamo le proprietà di camera andiamo a cercare i due disegni incominciamo dal pattinatore lo seleziono mi metto nel punto di vista dall'alto attivo la position e in questo caso dobbiamo correggere questa curva qui quindi seleziono questo keyframe qui tiro questa maniglia in modo che il tracciato in questa zona qui non vada a toccare il cartello che si trova qui la stessa cosa la faccio per la pattinatrice e tiro questa maniglia in modo che la curva giri a largo rispetto al cartello verifichiamo nell'inquadratura che i due pattinatori non incrocino il cartello direi che ci siamo benissimo adesso dobbiamo illuminare la scena e dobbiamo far sì che abbia un'illuminazione notturna cioè tutta quanta la scena sia pochissimo illuminata si vede appena appena e il centro della scena il lago sia ben illuminato quindi useremo una combinazione di luce ambient e luce spot incominciamo ad aggiungere una luce ambient quindi andiamo in layer new light quindi abbiamo detto come tipo di luce ambient e anziché lasciarla bianca la coloriamo leggermente di blu più o meno in questa zona qui diamo l'ok lasciamo il resto così com'è e diamo l'ok il livello luce nel mio caso si è infilato qui in mezzo ai disegni quindi è meglio se lo prendo e lo sposto in cima vicino alla camera qui e come vedete al momento la luce è troppo intensa quindi apro i suoi parametri e abbasso l'intensità finché non vedo che la scena si intravede appena appena e io direi di fermarmi a questo valore benissimo adesso aggiungiamo una spotlight puntata sopra il lago quindi di nuovo in layer new light come tipo di luce abbiamo detto spot come colore gli darei una puntina di giallo quindi apro la palette dei colori e in questo caso andiamo sul giallo arancio benissimo diamo l'ok i valori che trovo qui al momento non li correggo soltanto accendo il bottone di cast shadow che è quello che crea le ombre e come intensità delle ombre direi subito di abbassarmi un po' a un valore tra i 20 e i 30 più o meno così e do l'ok ecco come vedete al momento la luce è puntata su questa zona qui noi vogliamo che illumini tutta la zona del lago quindi il punto di vista che sicuramente ci aiuta meglio a puntare la luce è il punto di vista da sinistra quindi vado di nuovo su left faccio in modo che il centro della luce punti sull'albero di natale quindi sposto il punto di interesse un poco più in basso e anche un poco più in qua quindi agisco sullo z e lo sposto all'incirca qua adesso sposto la luce un po' più in alto e poi se c'è bisogno allargo il cono di luce quindi sposto la luce in su bene bene in alto tipo così e nelle light options agisco sul con angle che è appunto la larghezza del cono di questa luce e io arriverei più o meno a questo valore qua bene adesso facciamo in modo che gli oggetti principali della scena che si trovano in questa zona qui non siano illuminati dalle luci della scena e quindi gli disattiveremo il pulsante che accetta le luci e nello stesso tempo gli accenderemo anche il pulsante che proietta le loro ombre quindi selezioniamo tutti questi oggetti quindi i pattinatori l'albeo di Natale i regali Babbo Natale la renna il pupazzo il cartello Buon Natale anche le due rocce che si trovano sul lago la casa i quattro lampioni e anche le due luminarie allora permette in evidenza le loro proprietà del 3D basta che clicchiamo due volte il tasto A quindi AA e ad uno qualsiasi di questi elementi selezionati attiviamo il pulsante che attiva le ombre quindi Cast Shadow lo mettiamo su On e nello stesso tempo disattiviamo il pulsante Accetta luci in modo che come vedete tutti questi disegni si vedono come si vedevano all'origine ebbene direi di aggiungere anche una seconda luce spot e spostarla anche più indietro in modo da aumentare la luminosità della scena e avere anche una seconda ombra proiettata in avanti quindi seleziono la luce spot la duplico CTRL D il duplicato lo sposto più in avanti all'incirca in questa zona qui quindi come vedete abbiamo anche le ombre proiettate in avanti però come vedete le due luci spot si sommano e rendono troppo illuminato il centro della scena quindi l'intensità di questa seconda luce la abbasserei un poco apro le sue proprietà e l'intensity la abbasserei all'incirca così il resto della scena le colline e lo sfondo se ci sembrano troppo scure le possiamo schiarire ancora un po' con l'intensità della luce ambient forse in questo caso c'è bisogno di alzare un poco di più bene e ora ci manca in primo piano la neve e la neve la creiamo con un effetto applicato a un livello solido quindi vado nel menu layer new solid questo livello lo possiamo chiamare neve il colore deve essere bianco benissimo quindi diamo l'ok il livello lo mettiamo in cima a tutti i disegni della scena quindi lo metto qui non accendiamo il pulsante del 3d perché l'effetto neve non è tridimensionale quindi adesso andiamo nel menu effetti e l'effetto neve sta nella sezione simulation e si chiama snowfall e per far sì che rimanga soltanto l'effetto neve senza il livello solido bisogna spegnere il pulsante composite width original benissimo direi di modificarla un po' la quantità di fiocchi di neve la diminuiamo diminuendo il parametro flakes scenderei fino 2-3000 aumentiamo un po' con la dimensione intorno ai 4 direi che va bene e se guardate bene questi fiocchi di neve sono fin troppo definiti bisognerebbe sfocarli un po' quindi andiamo di nuovo nel menu effetti nella sezione blur and sharpen che contiene tutti gli effetti di sfocatura e aggiungiamo l'effetto di sfocatura più semplice che è il gaussian blur a questo punto dobbiamo soltanto aumentare il valore di blurriness io direi che tra i 6 e i 7 possa andare bene ottimo ora manca solo una cosa e sono come si vede bene qua le scie dei pattinatori sopra il lago per crearle useremo un effetto che crea delle linee e per far sì che queste linee seguano esattamente la posizione dei pattinatori dovremo usare anche un'espressione le espressioni purtroppo non le abbiamo ancora affrontate e le vedremo sicuramente più avanti nel corso per cui oggi dovrete prendere un po' per buono quello che sto per fare benissimo torniamo in after effects andiamo a cercare il livello del prato e del lago eccolo qua lo selezioniamo andiamo negli effetti e l'effetto che serve a noi sta nella categoria generate e si chiama write on lo seleziono eccolo qui noi dovremo animare la proprietà brush position che è la posizione del pennello in modo che segua perfettamente i pattinatori allora innanzitutto facciamo apparire i parametri dell'effetto nella timeline e quindi facciamo doppio click sull'effetto in modo appunto che i parametri si vedano qui nella timeline adesso selezioniamo i due pattinatori e mettiamo in evidenza la loro posizione cliccando il tasto P benissimo adesso concentriamoci su brush position per poter aggiungere un'espressione a una proprietà bisogna cliccare con il tasto alt sull'orologio che di solito noi usiamo per aggiungere i keyframe quindi tengo premuto alt clicco sull'orologio e vedete che adesso qui dove di solito compaiono i keyframe compare un testo e questo testo è l'espressione l'espressione non è altro che un'istruzione in linguaggio javascript che permette di animare una proprietà queste istruzioni possono essere scritte manualmente oppure si può andare in questo menu qui a sinistra e aggiungerle scegliendo l'espressione adatta nel nostro caso dobbiamo aggiungere un'espressione che sta della categoria layer space transform e in particolare a noi serve from world aggiungiamo l'espressione è questa noi non dovremmo fare altro che sostituire tutto quello che c'è scritto all'interno della parentesi con la posizione di un pattinatore e come si fa dopo aver selezionato questo testo basta che adesso io clicco su questa chiocciolina qui che c'è a sinistra tengo premuto il mouse e tiro la cordicella fino a toccare la posizione del pattinatore e questo testo che adesso voi vedete qua rappresenta appunto la posizione del pattinatore se adesso noi clicchiamo in un punto qualsiasi della timeline l'espressione diventa attiva e se adesso andiamo a osservare la nostra composizione come vedete il pattinatore lascia dietro di sé una linea bene ora per avere un'altra linea anche per la pattinatrice non dobbiamo fare altro che duplicare l'effetto write on e nella sua espressione sostituire la posizione della pattinatrice quindi seleziono write on lo duplico ctrl d a questo punto faccio doppio clic su write on 2 in modo che compaiano i suoi parametri qui nella timeline vado ad aprire l'espressione cliccando su questo triangolo qui a fianco di brush position seleziono la parte all'interno della parentesi e la sostituisco con la posizione della pattinatrice quindi clicco sulla chiocciolina e trascino la cordicella fino alla posizione della pattinatrice a questo punto ho collegato la posizione della pattinatrice con l'effetto write on e come vedete adesso anche la pattinatrice lascia dietro di sé una linea bianca benissimo l'esercizio quindi finisce qua adesso finalmente diamo una preview completa di tutta quanta la composizione mettiamo in evidenza solo un monitor e facciamo partire la preview benissimo direi che perfetto e quindi l'esercizio finisce qua e ci vediamo alla prossima ciao ciao